Amici di Milan.soccer, buongiorno e che buongiorno! Abbiamo intitolato O.S.I.M.E.N. Sì, abbiamo voluto, come dire, prendere un po' in giro il buono O.S.I.M.E.N. Ma noi abbiamo intitolato O.S.I.M.E.N. Man come uomo e che uomo! Leao! Mamma mia ragazzi! Gli avete lanciato la sfida dall'altra parte Caravaschelia e da quest'altra parte Leao. per giorni sui giornali, in televisione, ovunque si è parlato di quanto fosse più forte Caravaschelia rispetto a Leao e Leao ha fatto mettere la maschera a quelli del Napoli. Adesso ne parliamo in maniera assolutamente approfondita, ma attenzione perché nel dopo partita è successo di tutto. Allora, prima di iniziare vi invito, come sempre, a mettere un mi piace a questo video e di iscrivervi al canale. Qui sotto da qualche parte c'è una manina, come non metterla? Una manina, vabbè, una manina, una manina. Se la cliccate, ecco che iscriverete gratuitamente al nostro canale. Un canale che l'aveva detto, questa partita è importante, questa partita la dobbiamo andare a vincere, ma dobbiamo andare per ordine. Innanzitutto fatemi fare la pagella e poi vi dico quello che è successo sotto al tunnel, sotto agli spogliatoi e soprattutto perché abbiamo voluto mettere in copertina il mister Spalletti dicendo che Spalletti effettivamente, come possiamo dire, come possiamo dire, anzi no, l'abbiamo detto, era tutto finto. Allora, la pagella in porta Meignan. Meignan è stato come sempre molto sicuro, ha saputo dettare le linee della difesa, quindi come non dare al buon Meignan una sufficienza più che ampia, ai margini del sette, solo un piccolissimo errore, ma in tutta tranquillità davanti ad un risultato di questo tipo ormai acquisito. I difensori. Sulla destra c'era il buon Calabria che se la vedeva proprio con Caravaschelia. Il Milan ieri giocava Proia uomo, quindi ogni posizione è stata studiata di minimi dettagli e nessuno ha sbagliato nulla. Tomori e Kier sono tornati loro. Tomori e Kier sono tornati loro. Si sono ripresi la posizione, si sono ripresi il ruolo, si sono ripresi la loro dignità. Non bisogna mai sbeffeggiare l'avversario, soprattutto quando l'avversario si chiama Milan. Teo Hernandez ha avuto dei lampi, degli strappi, come si dice in gergo, sempre molto positivi, ma lasciatemi fare i più grossi complimenti a Sandrino Tonale, lì in mezzo al campo, insieme a Benasser. Davanti Krunic tutti e tre, sette, sette e mezzo, Tonali otto, un po' meno Krunic che sembra nascondersi ma è sempre determinante, anche quando gioca senza la palla. È sempre un giocatore determinante. Ieri si è vista una cosa, tra l'altro, che non si vedeva da troppo tempo, ovvero Giroud a parte, si tornava indietro e quindi anche spesso e volentieri abbiamo visto Man Leao, oh sì Man Leao, che tornava in difesa. Ma, 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 adesso lo dobbiamo dire, Diaz va riscattato, un Diaz così va riscattato immediatamente, perché ieri il mister ha giocato con il suo 4-2-3-1, che poi lasciamo un po' un attimo da parte questi numeri, perché a volte era un 4-3-3, insomma, da una parte Leao, e di lui abbiamo già detto, che ha vinto e stravinto la sfida con Caravaschelia, ha vinto e, tra l'altro, ha fatto questo gesto sotto alla curva del Napoli. Andatevi a sentire i cori dei tifosi del Napoli, andate a sentire cosa hanno detto i tifosi del Napoli fuori dall'albergo del Milan e che cosa cantavano contro Leao. Lasciamo perdere, ma ad un certo punto, quando scendevano le scalette tra il primo e il secondo tempo, beh, il buon Maldini ce l'aveva qui, e siccome il Spalletti è sempre un po' provocatorio, ad un certo punto Maldini si è girato e ha detto, mister, ma che c***o vuoi? E questo ha generato un piccolo sipario, un scenario un po' effettivamente teatrale, una sceneggiata che effettivamente Maldini voleva evitare, ma oggettivamente, quando è troppo, è troppo. Dall'altra parte c'era il Napoli. Noi abbiamo voluto intitolare Napoli-Milan era tutto falso, perché il piano Spalletti qual era? Ma non in queste dimensioni, non in questi termini. Il piano di Spalletti era quello di nascondere il Napoli. Il Napoli è decisamente avanti nella sfida Scudetto, è decisamente avanti per quanto concerne la possibilità di vincere lo Scudetto e quindi questa partita era importante per il Milan, soprattutto dopo la sconfitta dell'Inter, ma soprattutto dopo la vittoria della Lazio, della Roma e dell'Atalanta, non che della Juventus, di cui parleremo più tardi. Ma ad un certo punto Spalletti ha mischiato le carte. Guardate che la questione Ozymane, quello giocatore del Napoli, non è così chiara. probabilmente il suo infortunio non è affatto un infortunio grave, usiamo questi termini. C'è un infortunio che gli ha fatto saltare questa partita e allora Spalletti, che non aveva la necessità di vincere e neppure di pareggiare questa partita, ha pensato bene di dare questo tipo di lezione al Milan, cioè di giocarsela alla pari, perché pensava e ha anche affermato che il Milan in questo momento non è una squadra a livello europeo che gli interessava incontrare, poi ha fatto un piccolo passo indietro. Fatto sta che il Milan se l'è segnata e il Milan ha dato una lezione di calcio. Golli incredibili. Stavo dicendo prima, poi mi sono interrotto, il gol di Salema Kerr. Se il Salema Kerr fa un gol del genere vuol dire che viene giù il mondo, perché Salema Kerr ieri, quando è entrato al posto di Diaz, ad un certo punto abbiamo tremato un po' tutti quanti, ma oggettivamente ieri il Milan è stato eccezionale, veramente, come dice il buon Diego Abbatantuono. Il Milan, il piano di Spalletti era dunque questo, cioè di nascondere il Napoli, di nasconderlo perché quello che interessa a Spalletti è evidentemente, anche per motivi economici, di portare più avanti possibile il Napoli in Champions League, ma il Milan non ci sta perché Spalletti non crede, non si rende conto che quando si offende un avversario, quando si sbeffeggia un avversario, quando ci si crede così tanto superiori, e allora è la volta buona, che quell'avversario ti dà una lezione, e ieri il buon Pioli e il Milan hanno dato una lezione di calcio, sarà per il Napoli scudetto, ma lasciatemelo dire, sarà uno scudetto macchiato da una superiorità indiscutibile che il Milan ha mostrato con lo scudetto al petto. E' tutto per oggi, ma se ci sono novità faremo altri interventi, passate una buona giornata, andate in giro per i bar dove ci aspettavano tutti quanti per fare un po', perché adesso si stanno rivedendo in giro molti tifosi del Napoli, dove erano finiti negli ultimi trent'anni, e va bene, passate una buona giornata, salutate tutti i vostri amici tifosi del Napoli del Bar, io saluto i miei con grande affetto, perché comunque sono degli amici, è tutto per oggi, buona giornata e ciao!